Arriva a Roma la nuova tendenza della birra giapponese Asai Super Dry nei cocktail. A lanciare la sfida è Drink Kong, una delle più interessanti e innovative realtà della nightlife capitolina che ha dato il via agli eventi Discover Karakuchi, con un party all'insegna della beer pairing e con cocktail a base di Asai Super Dry firmata da Patrick Pistolesi. Si tratta della birra super premium più venduta in Giappone, che ha rivoluzionato il panorama birrario internazionale grazie alla sua caratteristica dry, in giapponese Karakuchi. I tre cocktail speciali sono Impeachment, Super Dry e Cobra Kai, come spiega Patrick Pistolesi, uno dei soci del locale di Piazza San Martino ai Monti a Roma. Questi tre drink sono nati proprio per fare i beer drink, è una bella tendenza, tanti lo fanno in tutto il mondo adesso, è un ottimo modo per miscelare la birra, va miscelata, si può miscelare. Ne abbiamo fatti tre, uno è ispirato praticamente a un kir, a una birra corretta con pesca, con peach, l'abbiamo chiamato Impeachment proprio per questo. L'altro è un twist su un americano, abbiamo sostituito la parte di sogno che si usa con le bollicine, proprio con la birra carbonata, quindi per rendere un aperitivo un po' diverso, soprattutto italiano, italializzare un po' un brand così. E per ultimo abbiamo fatto questo che abbiamo preparato prima, che si chiama Cobra Kai, ispirato al dojo di Karate Kid, molto anni Ottanta.